L'Azzaro Vieni Fuori è il tema dell'incontro in programma domenica 26 febbraio alle 3 del pomeriggio al centro pastorale di Santa Maria degli Angeli. Si tratta del primo ritiro diocesano del 2023, organizzato dall'Ufficio per il Rinnovamento delle Parrocchie con le piccole comunità famiglie del Vangelo, in collaborazione con gli altri uffici diocesani. La relazione è a cura di Don Giovanni Zampa, vicario per la pastorale della diocesi di Foligno. Come da programma, alle 15 inizierà l'incontro, alle 15.30 seguirà un momento di condivisione e di approfondimento, alle 17.30 l'adorazione eucaristica e alle 18.30 conclusione e saluti. Sarà presente un servizio di babysitting. Per informazioni è possibile consultare il sito www.diocesiassisi.it oppure contattare il numero 380-63-12973.